E' stato notato dagli agenti della squadra volanti della questura di Arezzo stazionare di fronte ad un supermercato di Campo di Marte e da subito destato i loro sospetti. Il giovane infatti alla vista delle forze dell'ordine si è immediatamente dato alla fuga e così da parte dei poliziotti è scattato l'inseguimento. Una volta bloccato gli agenti gli hanno trovato addosso 14 involucri in cielo fantermo saldato con dentro marijuana. Dai successivi accertamenti il giovane è poi risultato essere clandestino e destinatario di un decreto di espulsione e è stato quindi denunciato a piede libero per le violazioni connesse alla normativa sugli stranieri ed arrestato invece per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra in uno degli specifici servizi straordinari di controllo del territorio organizzati dalla questura Aretina che si avvalza della collaborazione anche del reparto prevenzione crimine toscana con l'obiettivo proprio di contrastare l'attività dei pusher nel quartiere di Saione. Grazie 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 Grazie